Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Si sono festeggiati nei giorni scorsi i primi 80 anni della CGL, proprio così il più importante, più numeroso sindacato italiano festeggia i suoi primi 80 anni. Facciamo naturalmente anche noi gli auguri alla CGL accompagnandoli a mo' di regalo con qualche riflessione critica e come uso dire sempre controcorrente. La CGL ha svolto una parte fondamentale nella difesa dei lavoratori in passato e come sapete io sono un fermo sostenitore dell'importanza del sindacato come spazio in cui la voce dei lavoratori viene unificata e può far valere le proprie giuste rivendicazioni. Questa è stata storicamente la funzione dei sindacati. Per quel che riguarda l'odierna CGL bisognerebbe domandarsi criticamente se ancora riesca pienamente a svolgere questo ruolo, se davvero rappresenti l'interesse dei lavoratori e la voce dei lavoratori. Non l'ha rappresentata sicuramente quando nel tempo dell'emergenza epidemica non ha di fatto agito contro l'infame tessera verde o green pass che dir si voglia, che rappresentava a tutti gli effetti una discriminazione inaccettabile contro i lavoratori. Come del resto mi pare di poter dire che la CGL faccia ben poco per quel che riguarda le grandi battaglie dei lavoratori in questo contesto. Mi pare che si attenta più agli arcobaleni e a questioni periferiche rispetto alla fondamentale questione del lavoro. Non per caso oggi viviamo nel tempo della solitudine dei lavoratori che sono stati abbandonati non solo dai partiti tradizionalmente di sinistra, oggi divenuti fucsie di rappresentanza del capitale, ma perfino dai sindacati che nella massima parte hanno già da tempo smesso di occuparsi della fondamentale questione del lavoro e della sua protezione.